NECOM è una gamma di sistemi di comunicazione studiata per i caschi Nolan. NECOM è stato sviluppato dal gruppo Nolan internamente rispettando quelli che sono i criteri del gruppo da 30 anni. In particolare la sicurezza, abbiamo omologato i caschi Nolan con il sistema NECOM inserito, la trasportabilità, è possibile utilizzare il sistema NECOM su più caschi o spostare semplicemente il sistema da un casco a un altro. Il sistema può essere installato dall'utente in modo semplice e viene venduto separatamente dal casco. Il comfort, il casco mantiene lo stesso comfort quando il sistema è inserito o meno, proprio grazie alla predisposizione del casco sin dalla nascita. L'aspetto sicurezza è stato tenuto in grande considerazione, infatti tutti i caschi Nolan predisposti per NECOM sono stati omologati anche con il sistema inserito. Quindi con il sistema montato, a differenza di un interfono comperato e installato successivamente, NECOM garantisce la stessa omologazione del casco anche quando è inserito. NECOM è una gamma modulare di prodotti, quindi offre diverse funzionalità combinando in modo diverso i prodotti della gamma NECOM. Il basic kit è l'allestimento di base che ogni casco deve avere per qualsiasi sistema di comunicazione voglia configurare. All'interno è provvisto di un microfono rimuovibile, due altoparlanti ad alta fedeltà stereo e l'interfaccia per collegarsi alla scheda elettronica esterna che si inserisce all'interno del casco. Quando il basic kit è installato all'interno del casco si integra perfettamente al suo interno lasciando il comfort praticamente inalterato. Con il solo basic kit è già possibile collegarsi a una sorgente esterna tramite un cavo di collegamento come può essere un lettore mp3 oppure un telefono cellulare sempre collegato via cavo. Oppure con intercom kit si può avere in aggiunta un passeggero collegato via cavo e condividere con lui le sorgenti audio esterne collegate. Con il sistema bluetooth si può ascoltare musica via bluetooth attraverso un telefono o un lettore mp3 provvisto di questa funzionalità, si può collegarsi via bluetooth a un navigatorio satellitare o un telefono cellulare per gestire le proprie chiamate telefoniche. In più sempre con il sistema bluetooth è possibile collegarsi a un passeggero in modalità wireless.